ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato oggi vi do una notizia finalmente che ci mostra quanto sia bello l'arricchimento culturale che è diretta conseguenza dalla società multietnica per come ci viene raccontata no perché cosa ci dice sempre il saputone progressista che la società multietnica ci arricchisce ci fa diventare migliori allora vediamo qual è l'effetto reale al di là delle chiacchiere qual è l'arricchimento culturale che ci vuole portare l'ideologia di sinistra e tutte le conseguenze di esso andiamo per questo in scozia ok nella bellissima scozia dove sappiamo che gli scozzesi è gente che non si fa guardare indietro quando è tempo di bere ci sono tanti pub nel villaggio di lynn light go villaggio che ha storia non è un villaggio che è stato costruito ieri come somborgo cioè un villaggio che ha una storia storia di centinaia cioè migliaia di anni uno delle storie più diciamo classiche una una favola locale un racconto locale parla di una cagnolotta una cagna una cagna nera ok un mastino un credo di quelli a pelo corto comunque un cane indifferente il quale padrone viene messo su un'isoletta al centro di un lago perché colpevole di un qualche reato la cagnotta così innamorata del suo padrone come sappiamo che la fedeltà dei cani va al di là di ogni cosa praticamente in questa storia faceva avanti indietro tutti i giorni portando nuota a nuoto in questo lago per portare del cibo al suo padrone che veniva lasciato lì a morire di fame una storia come ce ne sono tante una storia locale una storia che ha più di 700 anni quindi non so è così radicata questa questa favoletta della fedeltà del cane di questa cagna nera che addirittura gli abitanti del paese stesso vengono definiti sono fieri come dice il giornale che sto leggendo sono fieri di farsi chiamare the black bitches ovvero le cagne nere e non lo ritengono una cosa offensiva perché beach vuol dire effettivamente cagna cioè proprio riferirsi guardate sul dizionario cagna molto spesso come in italiano viene considerato anche una cosa un po offensiva dare della cagna però in questo caso si riferisce a un cane femmina dal manto nero non c'è nient'altro ma non solo quindi c'è questa storia che va avanti da 700 anni che fa parte della cultura locale ma come vedete qui c'è the black beach che è un pub che ha 350 anni 350 anni fa una famiglia ha deciso di fondare un pub per la gente del paese di chiamarlo the black beach perché è una delle cose più conosciute del paese ora secondo voi come andrà a finire questa storia magnifica di integrazione e di multiculturalità che ci arricchisce tutti va a finire che pochi giorni fa una rivista specializzata in birre ok una rivista della gran bretaglia insomma del regno unito fa un articolo in cui dice visto la corrente rivalutazione dei delle tradizioni e della cultura britannica io non credo che quel pub dovrebbe essere proud vuol dire fiero del proprio nome tutto qua non è che ci sono stati migliaia di persone che hanno fatto manifestazioni in piazza disordini qualcuno gli ha messo una bomba perché si chiama the black beach un articolo in cui in una rivista specializzata in birra che fra l'altro dal 92 a oggi per nove volte ha votato proprio quel pub come uno dei migliori di tutta la contea l'articolo dice quel nome non 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 bisognerebbe essere fieri di quel nome cosa fa il proprietario e qui capisci veramente a che punto è arrivata no la pressione di questa cultura malata sulla testa della gente prima ancora di arrivare ad avere effettivamente gente che magari che ne so ti trovi cento persone che ti manifestano davanti perché dicono che la cagna nera un nome offensivo non so se per i neri o per le donne o per le donne nere il proprietario decide di prendere un pub il cui nome ha 350 anni di storia la cui leggenda richiama a una storia che viene raccontata ai bambini da 700 anni in quel paese 700 anni e la cancella cance decide di cambiare il nome del pub questa è la perfetta metafora di tutta la cultura di di tutto il modello sociale di tutta la tiritera della multiculturalità dell'arricchimento questo è l'arricchimento cancellare le tradizioni cancellare la cultura nell'ipotesi che qualcuno si potrebbe offendere neanche perché è veramente qualcosa di offensivo perché uno dice non so un'immagine di un bianco con cinque non so una foto un dipinto di un bianco con 50 neri per terra morti o schiavizzati magari offensiva la tolgo da un muro del comune per dire no del comune della città c'è un'immagine fatta non è per in questo momento potrebbe risultare offensiva magari no è prima ancora una cosa che non ha niente a che fare con la razza delle persone non ha che fare con le persone in generale nessuno ha fatto delle vere manifestazioni di oltra di oltraggio di indignazione niente ma solo il pensiero che potrebbe accadere si cancella la storia pensate a che livello sono arrivati gli inglesi ed ovviamente lo stesso livello a cui ci vuole portare anche la cultura progressista italiana lo sappiamo benissimo come ragionano detto questo spero di avervi dato qualche informazione utile qualche punto di riflessione se vi è piaciuto questo video come sempre vi invito a condividerlo ci vediamo alla prossima notizia state informati ciao